Presentato questa mattina alla stampa un progetto di prevenzione degli incendi boschivi. Si tratta di un'attività di pattugliamento che verrà attuata dalla protezione civile. Attraverso un mezzo che girerà sul territorio terramano si potranno individuare roghi sul nascere e quindi allertare eventualmente e tempestivamente i vigili del fuoco. Un'attività quasi di pattugliamento delle associazioni di protezione civile che sono praticamente in convenzione con l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto un progetto importante di allertamento e di avvistamento degli incendi. È una macchina che girerà sul territorio comunale, su tutte le zone maggiormente interessate storicamente da incendi. Per far sì che poi le squadre che sono operative sul territorio possano intervenire nel più breve tempo possibile e affrontare un incendio che magari è nella sua fase di insorgenza e non è una fase di piano sviluppo che richiede ovviamente maggiori risorse per poter procedere all'estinzione e spesso questi incendi a volte diventano anche incontrollabili e richiedono maggiori risorse.